Ho tre centri commerciali che stanno proprio al centro di Marzillia, a 5 minuti a piedi e uno di fronte a ristorante, c'è proprio centri commerciali giganti. Bello, bello, sì, sì, ci stai. Molto Napoli, è molto Napoli. Sì, vabbè, è molto Napoli perché ci assomiglia perché è una città portuale, però ci assomiglia fino a un certo punto, è molto meno caotica a livello tipo di macchine e cose, non è assolutamente così, c'è qua è diverso, capito? Perfetto, ok. Eppure sei una città, per dirti, se non vai a uscire, c'è nessuno, la gente esce proprio più il weekend, ci stanno un sacco di bel stiamo andando a prenderlo cari forti un compagno è tornato in squadra, bene! stanno giù, stanno giù e poi ti stanno giù, questi conosciano pure, stanno fagli scema c'è stai su, che giù va bello, va luciolo, vai minacci in... e qui ce n'è uno! guarda lo shot quello, ecco, c'è dietro no, no, ci siamo di più no ne sono altri due qua tu? non ho chiesto, su tre no, su tre forse lo c'è sta un altro qua un armi tutti, i armi di merda ah, un altro team, un altro team che hanno spavuto un altro team, un altro team è l'ora della vendetta, stai tornando in campo ho visto, poi i prezzi sono buoni a parte di alcune cose, poi il sistema francese, ragazzi, il sistema francese di Previdenza fa paura, cioè la Car Vital, cioè io posso via gli occhieri da sole gratis, gli occhieri da Insta gratis, cioè non si sa compagno tornato in campo, ben fatto ostile localizzato i rinforzi sono in arrivo mi servono colpi di grosso calibro mi sono tutti divisi, scuagliano tutti un'arma, un'arma, un'arma un'arma, un'arma 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 e' da no, non ho la città gassi in movimento sei di nuovo in azione, dacci dentro una terra col bombata, una terra col bombata mi hanno colpito ho fermato stanno assali mo la scala alla zona scola no no non ci voglio vedere non ci voglio vedere non ci voglio vedere one shot, ma che cazzo dai nelis lancio di equipaggiamento in arrivo il compagno è tornato in squadra bene mi servono colpi di grosso calibro i rinforzi sono in arrivo mi servono colpi di medicina la visione è confermata sappiamo dove sono gli altri ah ah dai mi ha visto che ero un vecchio che fa schifo mi servono colpi di medicina oh salta gender tu mamma ho un disorder tu veni aspetta uno dove venite qua vi prego c'è un nuovo colazzo c'è un nuovo colazzo sicuramente gas in arrivo c'è una nuova zona sicura in questo settore scoperta aiutano 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 c'è stato uno che si scende buona cazzo atto sono quei stronti tiratevi su guarda qualcuno ci guarda qualcuno oh mi servono colazze colazze la dove? eccolo facchino uno è accaduto la ok madonna oh no vabbè 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 v�ду qui mhm simili nemici qui eh ci stanno questi sulti aah tratti ritorno in campo forza vendicati è anche bello però vabbè m'abuso di sta cosa vabbè io ho bisogno di corrigl madonna colpi di grosso calibro io li ho ripingo perchè sto gioco a battito stanno qua no boh 100 colpi aspetta da comprare chino c'è un chino colpi di grosso calibro perdete terreno muovetevi mi servono colpi di grosso calibro mi servono colpi di grosso calibro andiamo all'aria area bersaglio marcata fuoco alle polveri o sa uno sopra attacco imminente morto ok nessun colpo assegno nemico in arrivo nell'area punizioni qui buona cosa due ultimi taglietti scuola dietro ma dove fronte ora donna di frattino ah si si ma ha sfiorato ha sfiorato eccolo la pila boy shot no però il cartellone di dio sapotele un colpo fra non ci dico assurdo ora nooo via arrivano dei nemici attenzione in alto compagno tornato in campo ben fatto mi hanno beccato attento mio unico a terra cerca gli altri sulla mappa tattica si attività nemita il gas si avvicina nuova zona sicura localizzata che paura che paura guittata attenzione montaggio una terra una terra ultima ossisione il resto della squadra sulla mappa tattica buona casa c'è 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 il resto o c'è No, 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 Dio, che riuscita E' fuori safe Un compagno è tornato in squadra Non posso andare a terra, non posso andare a terra Marco i suoi compagni E' fuori safe Oh dai Il gas è sempre più vicino No, 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 un colpo Ci chiedo un'altra volta per un colpo proprio Quei bastardi Siamo fermata Sappiamo dove sono gli altri Attenzione, alcuni compagni Non sono nella zona sicura I rinforzi sono in arrivo Aspettate Altro sopra C'è attività nelita Soldato nemico in arrivo Votto, votto Votto, votto 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 Sto' attivato Adesso Non conviene Non conviene Sbuggano Così Sbuggano 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 E' Sbuggalo I non è accaduto qua solo richiedo ricondizione aerea attima vedi di qua andiamo a salire giù, andiamo a salire giù, andiamo a salire giù andiamoci di qua, arrivo arrivo eh bravo, questa è una grande idea questo è un gioco di merda da lì e là sopra se noi dobbiamo salire qua sopra, dobbiamo salire prima qua ci prendiamo in questa posizione anche adesso, secondo me c'è la gente no, c'è la gente solo là in fondo occhio per i cecchini ma dove sta la corda, mannaggia madonna io camminate così per camminare non trovo la corda ragazzi non trovo la corda ragazzi non trovo la corda il ragazzo è fuori safe ok non trovo la corda non trovo la corda ma io vi devi abbassare così eccola è stato a terra qui ci sono gli amici un altro braccato pure un altro mamma che armaccia ragazzi ma c'hai dei colpi di cecchino l'ho rovinato braccato, one shot, terra morto ok ma colpi cecchino no, ho cercatissimo, hai one shot quello eh volevo il gas e one shot occhio ce l'abbiamo qua sotto eh no infatti io non vado a scuola mi sono detto la gente che si deve un'altra posizione siete rimasti in 10 occhio non salgo da una volta alla volta gas in avvicinamento andate alla zona sicura io non serve la ragazza mi serve una cassa di muni se avete colpi cecchino colpi cecchino braccato uno la sotto stop la zona morto gas in avvicinamento nuova zona sicura il gas è sempre più vicino puntate alla zona sicura c'è molta strada da fare vedo qui amico in arrivo nell'area stiamo a terra non siamo conto ancora 4 amico è morto mi hanno colpito restano per sacchi direi che abbiamo vinto no in arrivo sull'imitino agganciarsi e tenersi al piede non perdete il treno ritorno degli eroi valorosi siete il nostro orgoglio Eh, amore, comunque, l'alcombo è più forte. La media di sanza è più forte. Abbiamo un tiratore scelto qui. Dino, la russa la parola di venire. Santo Dio! No. A te non ti ammazzo, non so. Non è mai venuto a te. Ti hanno fregato le uccisioni, eh? Hai soccorso ai compagni. Ben fatto. Chi dorme non piglia pesci. Forza! Forza!